volontari disclosure i quattro documenti che devi chiedere alla banca i quattro documenti che ti servono per fare la volontari disclosure ho constatato che non tutti i clienti né tutti i commercialisti e nemmeno tutti gli avvocati sanno esattamente quale documentazione richiedere alla banca svizzera per aderire alla volontari disclosure oggi imparerai quale documentazione richiedere buongiorno sono enzo caputo avvocato svizzero con studio regale a paradeplazzo rigo con swiss banking lawyer stoccom primo documento per aderire alla volontari disclosure devi produrre e quindi richiedere alla banca una dichiarazione scritta dalla quale risulta il beneficiario effettivo il cosiddetto ultimate beneficial owner perché non sempre colui che appare formalmente come beneficiario lo è realmente perciò serve questo documento il secondo gruppo di documenti bancari è costituito dalle situazioni patrimoniali dal 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2003 grazie alla fotografia del patrimonio a fine anno si documenta l'esistenza del conto in svizzera e non in un paese blacklist grazie a questo possiamo escludere il raddoppio dei termini nel caso un paese non sia più blacklist come per esempio la svizzera il terzo gruppo di documenti è costituito dagli estratti conto di tutti i conti correnti in tutte le valute a partire dal primo gennaio 2004 anche in questo caso per determinare imposte tasse sanzioni interessi e periodi ancora accertabili il quarto gruppo di documenti contiene tutte le contabili di tutte le operazioni finanziarie di bonifico e di trasferimento titoli in entrata e in uscita dal primo gennaio 2004 con questo ultimo gruppo di documenti hai tutto quello che ti serve dalle banche svizzere per iniziare a scrivere la volontaria disclosure se hai difficoltà nel reperire questa documentazione standard se le banche comunicano in lingua esterniera se le banche ti chiedono troppi soldi per questa documentazione io sono qui per aiutarti sono qui per te se ti serve aiuto non esitare non è mai troppo presto ma spesso troppo tardi prendi in mano il telefono usa una linea neutrale per esempio in un hotel e telefoni adesso al numero 004179 7904444 se hai un amico con lo stesso problema fagli un favore e gira di questo video be rich and remain rich grazie mi piace mi piace hanno bisogno sa responsabilità ma non è bruciato e Grazie a tutti.